Un uomo armato ha preso in ostaggio diverse persone nel municipio d'Ingostate in Baviera, nella Germania del Sud. L'uomo che ha agito intorno alle 9 al momento non ha ancora formulato nessuna richiesta alla polizia. Gli agenti stanno cercando di trattare il rilascio degli ostaggi. In città è atteso l'arrivo della cancelliera Angela Merkel che nel pomeriggio avrebbe dovuto tenere un comizio elettorale in vista delle prossime elezioni regionali. Non è chiaro se la presa di ostaggi sia collegata alla presenza della cancelliera. Grazie.